Gentili telespettatori, buona giornata. L'italiano ha inseguito dei camerieri perché ha lasciato solo 500 euro di mancia. Che? Eh sì, nell'estate degli scontrini pazzi, dove abbiamo visto un'Italia, purtroppo, dove tanti cercano di truffare i turisti, tanto il turista è di passaggio, non torna più, lo freghiamo. Non in tutti i paesi fregano i turisti, in alcuni posti in giro del mondo c'è molto rispetto per i turisti o per gli stranieri. In Italia diciamo che c'è una parte, una parte, che frega proprio i turisti. Mi frego i soldi, tanto la mia clientela non è quella di paese, non è che sono quelli di paese che vengono da me. È gente di passaggio, quindi in molti locali, in zone turistiche, fortemente di passaggio, gente che vedi una volta e non vedrai mai più. E freghiamoli, no? Arricchiamoci alle loro spalle. Beh, è una pratica deplorevole che scredita un intero paese. Nell'estate degli scontrini, chiamiamoli pazzi, io direi gli scontrini dei truffatori, con scontrino e ci pagano pure le tasse sulla truffa, scopriamo anche chi viene inseguito dai camerieri fino nel parcheggio. Pensate un po'. Una mancia da 500 euro non basta. E così i camerieri lo hanno inseguito fino al parcheggio del ristorante per chiedergli di un versamento extra, almeno fino a 1000 euro. Almeno lascia 1000 euro. Protagonista della disavventura, un ricco italiano di un locale a Saint-Tropez, località di culto del turismo extralusso, dove ormai la caccia a rischio è spietata, tanto che i ristoratori non accettano prenotazioni ai non abbastanza ricchi. A parlare del caso è la stampa della Costa Azzurra, secondo cui un anonimo italiano ricchissimo, è stato inseguito da un cameriere fino al parcheggio del ristorante dove aveva cenato perché aveva lasciato solo 500 euro di mancia. L'uomo sarebbe stato invitato anche bruscamente a raddoppiare la mancia. Il facoltoso italiano ha affermato che non metterà più piede a Saint-Tropez, dove, come riporta il messaggero, la caccia a ricco sta diventando un problema serio. Una roba da matti. Sentite che l'inchiesta di un giornale ha fatto emergere che ristoranti, bar e bistrò che riservano il diritto di non prenotare al tavolo a clienti giudicati non abbastanza ricchi e non abbastanza generosi. Il tutto dopo aver schedato i clienti e analizzato le loro abitudini a tavola, ma soprattutto alla cassa. Al momento di prenotare un tavolo al ristorante, verifica se il nome appare nell'archivio clienti ed eventualmente con quali lasciti passati. Se il nome non è subito certificato e comunque non compare nella prima categoria, vi sentirete rispondere che il ristorante è completo fino alla fine di agosto. E nel migliore dei casi sarete magari orientati verso altri ristoranti più consoni al vostro portafoglio. Ma non ci credo. E lo rivela così uno che lavora in uno di questi ristoranti. Naturalmente sono ristoranti extra lusso, quelli dove vai a mangiare doveva mangiare ricchissimo ed è contento magari di spendere 15.000 euro, 20.000 euro. Insomma, se spendi magari 20.000 euro e dissu... Beh, la regola in alcuni paesi dove consona la mancia, adesso io non lo so se in Francia o a Saint-Tropez la mancia è qualcosa di quasi obbligatorio, ma in tanti paesi fuori dall'Italia la mancia può essere il 5, il 10, il 15%. Di solito si lascia il 10%. Certo, ti dà fastidio quando non sei abituato a dare le mance, tu vai in un locale fuori dall'Italia, spendi, e poi sei tenuto praticamente a dare la mancia al cameriere perché loro vivono con le mance, il ristorante gli passa poco e loro vivono con le mance. Ti dà anche un po' fastidio quando sei all'estero questa mancia obbligatoria, no? Tu vedi il prezzo del piatto e poi dici, ah, devo aggiungerci il 10% per il cameriere. A chi non è abituato a dare le mance dà anche fastidio. Probabilmente se questo facoltoso italiano ha speso, non lo so, 10.000 euro, 15.000 euro, e poi lascia una mancia magari che è il 5% o il 3%, questi si sono innervositi. Come? Mi lasci solo 500 euro? Pensate un po'. Immaginatevi questi camerieri di questo locale di lusso andranno in giro con la Ferrari perché insomma se ogni sera si dividono mance da migliaia, migliaia, migliaia di euro chissà poi se quelle mance vanno tutti ai camerieri o al ristorante ne trattiene la maggior parte. Ecco, nell'estate degli scontrini truffaldini in Italia si sente anche il super ricco italiano rincorso a Saint-Tropez perché ha lasciato solo 500 euro di mancia. Anche essere super ricco, perché andare in un ristorante a spendere proprio soldi, buttarli via, spendere migliaia di euro quando poi magari vai nel ristorante vicino dove ci vanno tutti i comuni mortali e magari mangi meglio? Vai lì per sentirti ricco? Ma a chi la racconti? Nel senso, se tu hai soldi, perché devi andare nel ristorante dei ricchi a sentirti ricco? Se sei ricco hai bisogno di sentirti ricco. Alla fine sono dei posti solo dove spennano i fessi, super ricchi, dandogli un piatto di pasta come te lo danno in qualunque ristorante, magari te lo danno in un piatto magari bello, più bello, dove il cameriere ti fa l'inchino, ti chiama Sire, Santità. Insomma, io credo che se avessi tutti i soldi del mondo non andrei a cercare i ristoranti più costosi dove andare a spendere per forza 15.000 euro per mangiarti una carbonara e poi sei pieno e non c'hai più voglia di andare avanti, no? Ti portano una bottiglia d'acqua a 150 euro, insomma, no? La stessa acqua che nel ristorante vicino te la danno a un euro? Ecco, boh, queste cose qua io non le capirò mai. I ristoranti dei super ricchi, insomma, che ti faranno un super pranzo? Non credo proprio. Quei posti dove ti fanno la pizza a 50.000 euro, ti arriva quello che ti fa la pizza a 50.000 euro, ma cosa ci avrà messo su? I diamanti? La pizza a 50.000 euro, ma dai, ma su, insomma. Poi ognuno è libero di buttare via i soldi come vuole, però, insomma. Forse ti dà più... Secondo me ti dà più soddisfazione andarti a mangiare una carbonara nel ristorante normale e poi tutti quei soldi andare fuori e trovi gente che ha bisogno e li regali. Guarda, tieni. Passati il mese bene. Ecco, è più soddisfacente fare una cosa del genere che andare a buttarlo e regalarli ai camerieri che ti inseguono nel parcheggio. Ma dai! Grazie a tutti e arrivederci a presto.